Sono passate le prime tre ore, procediamo perciò con l'impacchettare i pezzi di carne con dei fogli di alluminio. Questo permetterà alla carne di reidratarsi dai propri grassi, aiutare il rub a entrare in profondità e ammorbidirla. Eseguiamo quest'operazione per ogni pezzo di carne che abbiamo a disposizione. Una volta terminato, possiamo riportare la carne sul barbecue e continuare la cottura per altre due ore. Sono passate due ore. Prendiamo i nostri pacchetti e liberiamo le costine dall'alluminio, cercando di raccogliere tutti i succhi della carne. Spennelliamo in modo molto abbondante con la salsa agrodolce, entrambi i lati delle costine. La ricetta la puoi trovare sul mio canale YouTube oppure sul mio blog. Mi raccomando, non lesinare con la salsa, poiché questa donerà un sapore molto particolare alla crosticina che si formerà sopra le costine. Eseguiamo la stessa operazione per tutti i rimanenti pezzi di carne. Una volta terminato, riportiamo la carne sul barbecue per terminare la cottura. Questa fase durerà un'ora. Spesso troverete altre ricette 3-2-1, che significa proprio il tipo di cottura in ore. 3 ore, 2 ore, 1 ora. E' passata l'ultima ora della cottura 3-2-1. Le nostre costine sono pronte per essere degustate. Come si può notare, la cottura è perfetta e l'osso si stacca dalla carne senza fatica e lasciandolo pulito. Il profumo è eccezionale, il gusto altrettanto. Ora potete servirle in tavola. Buon appetito!